A tuo Marconcini, intanto partiamo da questa serata. Che cosa si prova nel ricevere un riconoscimento dalla propria città quando poi si suol dire molto spesso che nessuno è profeta in patria? Vai, innanzitutto io, come dico sempre, sono molto attaccato alla mia città che è Arezzo e cerco sempre di portarla in alto nel mondo, in tutti i tornei in cui competo e vado in giro, diciamo, quindi sono onoratissimo di essere qui stasera e di rappresentare il mondo del judo e l'arma dei carabinieri all'interno di un contesto che è molto aretino, diciamo. Senti, ripercorriamo un attimo anche quello che è accaduto, non solo alle Olimpiadi ma anche qualche mese prima dove si è riuscito a centrare questa qualificazione per i giochi e dove hai portato un pezzo di giostra, quel fular che era sempre attaccato al tuo zaino non era solo di facciata, era proprio il tuo cuore giallo-cremisi. No, le cose di facciata a me non mi piacciono, è stato un gesto che, diciamo, è venuto dal cuore perché comunque il mio quartiere, come dicevo prima, Arezzo e in particolare il mio quartiere che porta del foro mi è nel cuore, quindi è stato un gesto di attaccare il fular allo zaino così distinto e mi è venuto la mattina della partenza e l'ho fatto, diciamo, inconsciamente ed è stato un bel gesto e è stato riconosciuto in tutta la città, diciamo. Presidente, il Panathlon non è nuovo a queste iniziative, questa sera però viene reso omaggio a un atleta che non solo ha portato in alto il nome dell'Italia alle Olimpiadi ma proprio il nome di Arezzo con una passione anche per la giosta del Saracino davvero verace. Infatti la serata è una serata dedicata a un atleta importante, a un campione, una serata però che è dedicata a un campione che dimostra in ogni circostanza tutta la sua retinità. Non è facile trovare una persona che arriva a degli allori a livello europeo perché è anche campione europeo ma mondiale perché andare all'Olimpiadi è sempre un raggiungimento di un traguardo però in ogni circostanza mantiene lucido e direi è ben presente la sua origine a retina e non solo l'origine ma anche quella di partecipante alla giosta del Saracino.